E' stata denominata operazione Foglia ed ha visto coinvolti i carabinieri della stazione di Sasso Corvaro e Pian di Mileto nella giornata di domenica scorsa e hanno arrestato un riminese operaio pregiudicato di 44 anni per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine coordinata dal sottotenente Michele Ognisanti di Urbino, partita diverse settimane fa in prossimità dell'area boschiva di Sasso Corvaro, dove era stata notata più volte un Opel Zaffira sospetta appartenente a nessuno dei cacciatori che frequentano quella zona. Controlli all'interno della boscaglia, attorno al Foglia, in un'area demaniale, hanno fatto scoprire una cinquantina di piante di canapa indiana meticolosamente coltivate dall'operaio riminese espertissimo. Dopo alcune settimane di appostamenti, domenica 25 settembre alle 18, l'uomo responsabile della piantagione è stato bloccato dai militari con il bottino in mano, circa 5 kg di cannabis appena raccolti dal suo prezioso giardino. Dopo numerosi e ulteriori accertamenti presso la sua abitazione, sono state rinvenute ulteriori dose di sostanze stupefacente, quantitativi che avrebbero saturato il mercato illegale urbinate. Nella mattinata di ieri, in attesa del processo, l'uomo è stato messo agli arresti domiciliari. Abbiamo proceduto all'arresto di un cittadino italiano di Rimini, responsabile della coltivazione e spaccio, quindi della detenzione, di sostanze stupefacenti. Abbiamo trovato una piantagione nei pressi del fiume Foglia, consistente di circa 56 piante di cannabis. Siamo arrivati a sequestrare, oltre a tutte le piante, dell'ulteriore cannabis, quindi marijuana e hashish, e anche alcune anfetamine, per un controvalore stimato di circa 100.000 euro. Il soggetto è attualmente posto agli arresti domiciliari e verrà processato a breve, nella prossima settimana, con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.